La confezione è davvero elegante. E' leggerissimo. La prima impressione è proprio leggerissimo. Andiamo a vedere velocemente cosa c'è dentro. Allora, poi qua abbiamo i libricini, qua abbiamo il cinturino di metallo eccolo qua. E qua sotto il cavetto perché il pebble è praticamente... potete andare anche nell'acqua, quindi il caricamento magnetico è esattamente come quello del MacBook. Così. Fantastico. Andiamo col suono di nuovo. Eccolo là. Via questa brutta cosa. Devo dire veramente è leggerissimo. Fantastico. Fantastico. Andiamo velocemente a vedere un po' le funzioni. Io per il momento ho installato questo orologio, ma ce ne sono centinaia e centinaia di orologi che possiamo andare a mettere. Poi andiamo nel menu col tasto centrale. Musica. Ci viene ad esempio l'autore della nostra applicazione musica dell'iPhone. Posso premere play. E sul nostro iPhone ci parte la canzone. Ok. Possiamo andare avanti. Ok. Ma lo devo studiare un attimo. Ah ok. Bisogna poi fare play. Ok. Proviamo con... Eh un attimo. Ok. Poi usciamo. Notifiche. Qua possiamo postare tutte le notifiche. Possiamo leggere i messaggi che ci sono arrivati. Allarme. La nostra sveglia. watch faces. E praticamente l'orologio che avevamo prima nella prima schermata principale. Impostazioni. Bluetooth. Notifiche. Data e ora. Display. Faccio solo una cosa veloce perché ancora lo devo studiare un attimino. Andiamo a vedere un attimo solo le notifiche. Mi provo a scrivere un messaggio. Proviamo. Ok. Eccolo la. C'è arrivata la notifica del messaggio. Ok. Me lo devo ancora un attimino su di e poi più avanti caso farò sapere qualcosa di più specifico. Comunque il cinturino in pelle è davvero fantastico. E ribadesco di nuovo che è una leggerezza incredibile. Ed è veramente molto curato nei dettagli. ed è veramente molto curato in ogni singolo dettaglio. Viene fornito. Viene fornito, attenzione, perché viene fornito assieme al cinturino come avete potuto vedere. viene fornito assieme al cinturino o quello in metallo così oppure quello nero, la versione nera. Ma comunque riceverete sempre quello in pelle assieme. non è che bisogna comprarlo extra o cose così. Comunque veramente fantastico. Ciao a tutti e alla prossima recensione. Grazie. Grazie.